Nome. Martin Dumollard. Soprannome. Il killer delle cameriere. Numero vittime. 3. Modus operandi. Strangolamento, stupro, probabile vampirismo. Martin Dumollard è nato il 21 aprile 1810 in Francia. Il padre era un ricercato ungherese, infatti scappò in Francia dove poi si fece famiglia. Martin iniziò a lavorare già all'età di otto anni come pastore. Da adolescente iniziò a commettere piccoli ma numerosi furti e rapine, tant'è che si dovette trasferire a Lione per non rischiare l'arresto. Proprio li incontrerà e sposerà nel 1840 Marianne Martinet. Martin era un uomo strano, era ossessionato dal sangue ed era continuamente tormentato da fantasie sessuali oltre l'inimmaginabile. Queste fantasie si fecero via via così forti da farlo entrare nel vortice della follia più pura. È il 1855. Iniziò a girare per la città, spacciandosi per impiegato in cerca di una cameriera. Una volta adescata la preda, le veniva dato appuntamento nella sua fattoria dove veniva aggredita brutalmente. Aggredi un totale di dodici ragazze, tra cui quattro persero addirittura la vita. Fine febbraio 1855. Viene ritrovato il corpo di Maribada in una foresta da dei cacciatori. La ragazza era andata a casa di Martin, il quale le aveva offerto di lavorare come cameriera per lui e la moglie. Una volta in casa fu aggredita, denudata, violentata e strangolata a morte per poi essere scaricata nel bosco. Il tutto davanti alla moglie che, probabilmente ingenua o sottomessa, aiutò il marito ad occultare il cadavere. È il 28 maggio 1861. Marie Pisciona stava passeggiando tranquillamente senza accorgersi che un uomo la stava osservando da un po'. Quell'uomo ad un certo punto le si presenta. Era Martin Dumollat. Iniziarono a passeggiare fino a sera ed ad un tratto l'uomo l'aggredì con una corda. La strattonò e cercò di strangolarla ma le urla della ragazza allertarono un contadino che mise in fuga l'aggressore. La ragazza raccontò l'accaduto alla polizia, fornendo descrizioni importati e anche l'indirizzo di casa del suo aggressore, il quale le aveva fatto la solita proposta di lavoro. Così la polizia andò nella fattoria di Dumollat che fu arrestato, insieme alla moglie. Ispezionando la casa, le autorità trovarono ben 1250 pezzi di abiti da donna, come giarrettiere, calze, sottovesti, fazzoletti, scialli di pizzo, cappelli, ecc. Erano i suoi trofei e dovevano appartenere almeno a 646 donne. Un numero impressionante. Tra i ritrovamenti scoprirono gli abiti di Marie Badai. Fu dunque accusato di omicidio, furto e tentato omicidio. Durante l'interrogatorio confessò altri due omicidi. Quello avvenuto nel 1857 nel bosco di Montmen. L'identità della ragazza rimase sconosciuta a causa dello stato del cadavere. Dumollat l'aveva spogliata e strangolata a morte per poi essere portata in quel bosco e seppellita. Il terzo omicidio risale al 25 febbraio 1861. A cadere vittima del mostro fu Marie Eulalie Bussod, 42 anni. L'attacco fu terribile. La ragazza fu picchiata e colpita ripetutamente alla testa con un oggetto contundente fino a farle perdere i sensi. L'uomo la portò nel bosco, dove riprese conoscenza nonostante fosse ancora stordita e confusa. L'aggressione continuò. Fu malmenata, denudata e presa a morsi così profondamente che il medico legale pensò ci fosse stato anche un atto di vampirismo. La ragazza fu poi stuprata e sotterrata viva. Morì sottoterra, dopo poco tempo di estrema sofferenza. Si aprì il processo per l'uomo e la moglie, complice di silenzio e di occultamento di cadavere, il 1 febbraio 1862. Presenti in aula ci furono nove ragazze che Dumollar aveva aggredito, picchiato e cercato di strangolare. Ma fortunatamente le ragazze ebbero la meglio e riuscirono a fuggire. Quel giorno si fecero coraggio e si presentarono in aula per testimoniare e raccontare la loro disavventura. La corte condannò la moglie a venti anni di lavori forzati mentre Dumollar fu condannato a morte per triplice omicidio, stupro, aggressioni, tentato omicidio, rapine e furti. Fu condotto alla ghigliottina l'8 marzo 1862.